Le Ferrari del Western Tour 2022 hanno sfilato lungo le splendide via di Rocquetas de Mar. Il paese andaluso da sempre meta di turisti ha accolto con entusiasmo l'arrivo del corteo. Volti felici quelli degli appassionati e dei tanti bambini a corsa in massa per strappare un selfie insieme ad un orgoglio tutto italiano. Il sindaco Gabriele Amat è visibilmente emozionato. Sindaco buongiorno e grazie per questa meravigliosa ospitalità. Ieri c'era un po' di pioggia che scendeva su questo territorio, meravigliosamente spuntato il sole che illumina alla grande queste macchine meravigliose. Il sindaco dice che evidentemente questo del tempo è stato una malapassata, ma lui ha parlato con l'organizzatore per organizzare giustamente la giornata accordi con il servizio meteorologico giusto. Avere una macchina veloce, il sindaco le strappa un sorriso, è utile per ottimizzare i tempi e condurre una campagna elettorale importante. È la macchina più adeguata questa secondo lei? No. Bisogna correre? No. Lui dice che non c'è bisogno correre tantissimo per fare una buona campagna elettorale, ma sì che fa un parangone tra Ferrari e il suo partito, Partito Popolare, come un partito di esito. Nei tanti modelli che ha visto ce n'è uno in particolare che porterebbe a casa oggi immediatamente? Lui le è piaciuto tantissimo la prima macchina che ha visto, che sembra che è il tributo, ma dice che se poterà avere la scelta prenderà ognuno, non importa qualsea, è sempre quando si possa pagare.